Si era parlato dell'apertura del secondo ecopunto, a che punto è? A punto ottimo, nel senso che è stato autorizzato dal Comune il progetto presentato dalla GESA. La GESA ha dato tutte le sue autorizzazioni come l'amministrazione comunale, i materiali sono già stati acquistati, siamo assolutamente pronti in posizione di partenza. Credo che nell'arco di pochi giorni dovrebbero avviarsi i lavori per la costruzione del nuovo ecopunto, che voglio ricordare sorgerà all'interno di uno dei due campetti, nell'area ovviamente destinata non ai campetti. È un punto importante, uno stodo particolare di agente alla viabilità principale, la zona dove svolgiamo attualmente il nostro mercato. Questo consentirà un po' di dare più respiro al primo ecopunto dello stadio, perché voglio dirlo con un pizzico di orgoglio, una punta di fierezza. La cittadinanza di Favara hanno risposto veramente alla grande all'inizio di questo primo ecopunto e nel primo mese di suo svolgimento devo dire che Favara è balzata ai primi posti per percentuale di raccolta differenziata monomateriale, ci tengo a dirla. Anzi, addirittura l'ecopunto di Favara, che è arrivato a 420 quintali di raccolta, ha superato i CCR, cioè il nostro piccolo ecopunto da solo ha raccolto una quantità di materiale che è superiore al centro di raccolta, che è un centro ovviamente di grandi proporzioni. Quindi, come vedete, i cittadini di Favara rispondono. Quando noi riusciamo con la loro collaborazione e con i presupposti a far partire servizi innovativi e di grande civiltà, non è vero che Favara è destinata e contannata ad essere sempre ultima o a vivere nell'ingiviltà. Favara può e deve alzare la testa, guardare al futuro, reclamare i diritti ma partecipare doverosamente rispettando le regole, rispettando la propria parte e partecipando alle iniziative virtuose fatte dal Comune.